auto ibride auto elettriche energie alternative siamo tutti coinvolti in queste argomentazioni chi ha già un'auto ibrida chi ha già un'auto elettrica le stesse applicazioni le stesse diciamo così soluzioni vengono applicate anche in altri ambiti che non siano esclusivamente quelli dell'automotive uno di questi ambiti è quello degli yacht delle imbarcazioni esistono infatti già delle costruzioni delle imbarcazioni ibride che quindi hanno una doppia motorizzazione la classica motorizzazione a combustibili fossili diesel abbinata a una motorizzazione elettrica come forse molti di voi sanno sulle imbarcazioni di grandi dimensioni sugli yacht sulle navi il motore endotermico non è quello che fa girare le eliche il motore endotermico alimenta dei generatori di corrente che alimentano di conseguenza dei motori elettrici comandati da inverter che azionano le eliche e quindi muovono lo yacht muovono la nave la nuova alternativa è quella delle imbarcazioni ibride ovvero imbarcazioni che sfruttano l'energia elettrica accumulata in batterie per far funzionare questi motori elettrici e di conseguenza muovere questi yacht è un settore sicuramente interessante è un settore in forte sviluppo che segue l'onda dell'innovazione che si vuole percorrere ognuno poi è libero di avere il proprio punto di vista su questo tipo di applicazione ma sicuramente c'è spazio anche in questo ambito per quelle che sono le applicazioni ibride cosa centriamo noi in questo ambito diciamo che tutti questi azionamenti tutti questi server tutti questi componenti elettrici generano calore di conseguenza vanno raffreddati mentre nel settore automotive il discorso è un po più semplice perché naturalmente sono potenze più contenute quindi il calore da dissipare più contenuto e con un normale radiatore di auto si riesce ad ottenere il raffreddamento chiaramente su delle imbarcazioni o su degli yacht la potenza termica da dissipare è molto superiore e quindi vengono realizzati dei sistemi ad hoc per poter dissipare questa potenza tramite un raffreddamento che può venire da scambiatori posti sotto lo scafo i cosiddetti kill cooler che potete vedere in queste immagini che vengono raffreddati direttamente dall'acqua del mare ma chiaramente ci sono delle condizioni di navigazione dove l'acqua del mare a una temperatura troppo elevata e quindi ci si affida delle unità chiller ausiliarie che sono poste a bordo dell'imbarcazione che producono acqua refrigerata che va ad alimentare degli altri scambiatori tipicamente a piastre che fanno il raffreddamento di questi azionamenti elettrici di questi motori elettrici inverter server di potenza e quant'altro diciamo che l'argomento ibrido ed elettrico è un argomento molto sentito magari ci torneremo con qualche altro video intanto spero di aver stuzzicato la vostra curiosità. Buona giornata!